La parola del giorno è gioia, gioia che ha tantissimi significati, io essendo siciliano lo dico anche da siciliano, noi gioia lo diciamo anche tra uomini, ciao gioia, gioia che fai come stai, perché ha questo senso di bellezza tra le persone, questo rispetto che c'è tra una persona e l'altra, quindi non c'è differenza di sesso, poi gioia è riferita a gioia della vita, gioia è riferita a un bambino appena nato, gioia è riferita alla moglie, alla fidanzata, alla persona che si ama, alla mamma, quindi la parola gioia per me ha un significato mondiale importante ed è una parola che tutti dovrebbero usare tutti i giorni, in tutti i momenti.